con noi potete applaudire tutte le volte che non risperate vi raccomando, grande equipo perché non è facile stare su questo palco affrontare il pubblico e soprattutto essere giuricati da una Giulia così prestigiosa quindi l'atleta numero 9, Simona Rasso l'atleta numero 19, Carla Azzeri l'atleta numero 45, Silvia Mazzurek l'atleta numero 47, Ivona Yashkiewicz l'atleta numero 57, Anna Meloni questa è la prima parte della gara le atlete si presentano all'attenzione dei giurati e alla vostra attenzione in bikini la categoria, vi ricordo, è la model chiedo gentilmente di mandare un po' di musica, per favore e chiedo alle ragazze appena arriva la musica di iniziare una piccola sfilata in cerchio e poi posizionarsi sul fondo del palco, per favore adesso arriva la musica arriva arriva quindi ragazze una prima sfilata Kingolina va bene lo stesso perfetto e quindi chiamo la prima atleta Simona Rasso per la prima sfilata prego Simona continuo la tua sfilata fai un cerchio per favore posa davanti ai giudici grazie Simona atleta numero 19 Carla Razzieri atleta numero 45 e quindi Non pensi che il padre è un pezzo. Número 47, il Vibola Yashkiewicz. I don't know, and whatever it might be, I don't know where everybody else in life I don't know where everybody else I don't know where everybody else needs to do Grazie a tutti. Quindi, atleta numero 9, Simona Rassu. Numero 19, Carla Arseghe. Numero 45, Silvia Madurek. Numero 47, Ivona Jashkiewicz. Numero 57, Anna Meloni. Allora, allora, per favore, di fronte ai giudici, di fronte ai giudici. Il vostro lato, destra, la giuria. Il vostro lato, destra. Senta, per favore, senta a passare. Senta a passare. Di schiena, giuria. Dorsi, la giuria. L'ameni, patos istri, la giuria. Grazie a tutti. E quindi, ragazze, un'ulteriore piccola sfilata per voi. Quindi la numero 9, Simona Rassu. Prego Simona, ancora musica per favore. Ulteriore sfilata per le nostre atlete. Atleta numero 9, Simona Rassu. Atleta numero 19, Carla Azzeri. Sorriso. Atleta numero 45, Silvia Mazurek. Número 47, Simona Rassu. Vienic. Atleta numero 56, Anna Beloni. Grazie. Sì, atlete, potete andare in seguito per prepararvi per la vostra seconda esibizione. Come vi dicevo, per la categoria model non è prevista la routine, quindi l'esibizione libera. Adesso andranno ad indossare l'abito da sera. Nel frattempo noi andremo avanti, lo faremo, chiamando l'atleta che gareggia per la categoria model maschile. C'è un solo candidato, è l'atleta, con il numero di gara 39, Moreno Martinez. Prego Moreno. Prego Moreno. Passarella per te. Puoi scegliere? Avanti Andrè. Dove vuoi? Destra, sinistra? Questo lo scuocco. Sei sopra. Non puoi muoverti anche, lato palco. Non puoi scegliere? 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 Non puoi scegliere?